E' nato il Comitato Pro Lavagna, per la prima volta le realtà sociali ed economiche della città uniscono le forze, l'obiettivo avere un unico interlocutore per portare avanti proposte e iniziative con le istituzioni. Sant'Anna, la strada riaprirà a senso unico alternato oggi alle 17.30, slitta di alcuni giorni invece la riapertura a doppio senso di marcia, Anas ha chiesto più tempo per recuperare il ritardo causato dal maltempo. Il Papa incontrerà ad agosto i giovani di tutta Italia, per i ragazzi la proposta di un pellegrinaggio nelle loro diocesi da concludersi a Roma, nel nostro Tg la storia di Emma Morosini, la nonna Pellegrina. Prime fiame recapitate alla giuria tecnica del premio Anderson 2018, gli elaborati dovranno pervenire entro il 23 marzo. Testimonial del festival, il cantautore Dario Brunoni. Buongiorno a tutti e bentornati al Tg13. Per la prima volta Lavagna unisce le forze, le diverse realtà che ne compongono il tessuto economico e sociale e si sono dotate di una voce unica a partitica e a politica. Si è costituito infatti nei giorni scorsi il comitato pro-Lavagna. Non si sostituirà ai CIV o alle associazioni di categoria, ma nell'intenzione dei promotori vuole creare un soggetto maggiormente rappresentativo per gli operatori economici che si trovano sul territorio lavagnese. Sono più di 200 quelli che hanno già aderito. Sentiamo. Per la prima volta dei privati, dei singoli riescono a unire tutte le realtà economiche, commerciali, turistiche, rurali, sociali della città per portare avanti dei progetti per il rilancio della città coordinando tutti e quindi cercando di riportare Lavagna allo splendore che merita. Chi ne fa parte e chi ne può fare parte di questo comitato? Attualmente ne fanno parte e fanno parte del comitato che l'ha fatto nascere tutti i CIV di Lavagna, l'associazione albergatori, l'associazione ristoratori, il gruppo dei balneari di Lavagna e Cavi, i traghetti e il consorzio servizi marittimi del Tiguglio di cui peraltro faccio parte e quindi sono le realtà più importanti che poi compongono quel gruppo di operatori che poi dal turismo traggono il principale beneficio. Numericamente quanto si può quantificare? Allora, siamo oltre 200 partite IVA considerando tutti gli associati e comunque il comitato è aperto anche a proposte, a necessità, a consigli che possono provenire da anche il singolo cittadino che ovviamente comunque vivendo nella città è giusto e ha diritto comunque di presentare eventuali suggerimenti, eventuali proposte. Ci sono gruppi politici e partiti dietro questa iniziativa? Assolutamente no, teniamo a sottolinearlo, abbiamo necessità di altro tipo, c'è bisogno che la città riprenda a funzionare, che la città vada avanti, che la città ritorne agli antichi splendori e assolutamente non ci sono finalità politiche, non c'è nessuno che è interessato a nessun tipo di finalità politiche per cui dobbiamo lavorare. Noi pensiamo a lavorare e a portare avanti i nostri progetti, le nostre idee che si svilupperanno nel corso del lavoro per il bene della città. Sono in corso anche oggi i lavori alla frana di Sant'Anna tra Lavagna e Sestri Levante, le gallerie resteranno chiuse sino alle 17.30. Ieri pomeriggio, nonostante il ritardo, l'intervento dell'elicottero ha permesso di trasportare sul versante il materiale necessario per il completamento dell'opera. Oggi i tecnici sono impegnati per fissare le reti metalliche di contenimento di eventuale materiale franoso. Dopo le 17.30 di oggi tornerà attivo il senso unico alternato, in attesa che l'intervento termini definitivamente. ANAS spera di riaprire la viabilità a doppio senso di marcia entro sabato 10 febbraio, ma visto il ritardo di questi giorni sarà molto difficile. L'intervento potrebbe prolungarsi nei primi giorni della prossima settimana. Sono escluse comunque altre chiusure. La giunta regionale stanzierà oggi i primi 50.000 euro per l'intervento di messa in sicurezza della frana che si è staccata in località Aveno, nel comune di Tribogna, lungo la strada della Spinarola che collega la Fontana Buona al Golfo Paradiso attraverso Uscio. Questa mattina si è svolto il sopralluogo. State vedendo le foto. I primi fondi serviranno per palificare gli 11 metri di strada franata e metterla in sicurezza. Altri 50.000 verranno stanziati per ultimare il lavoro, attingendo al bilancio 2018. La strada, oggi percorribile a senso unico alternato, serve una trentina di persone della frazione di Aveno. I lavori prenderanno il via appena formalizzate le procedure burocratiche e dureranno un mesetto circa. Cambiamo tema. I giovani di tutta Italia si preparano a vivere un'esperienza di cammino che culminerà nell'incontro a Roma con il Papa. I ragazzi della Diocesi di Chiavari, insieme a quelli di Genova e la Spezia, partiranno il 6 agosto da Rapallo per un itinerario che toccherà Chiavari, Sestri Levante, Le Cinque Terre e Porto Venere. Per preparare questo evento sono stati convocati a Roma i responsabili di pastorale giovanile delle diocesi italiane. Nel corso dei lavori è intervenuta Emma Morosini, la cosiddetta nonna pellegrina. 94 anni di età, ha percorso a piedi quasi 40.000 chilometri toccando i principali santuari del mondo. Don Luca Sardella ci racconta la sua storia. L'essenziale per il viaggio sta tutto in questo piccolo carrellino che Emma Morosini trascina chilometro dopo chilometro. Sacco a pelo, un cambio di biancheria, una macchina fotografica con rullino, acqua, pane secco, latte in polvere. Il resto le arriva sempre in misura sovrabbondante, segno della provvidenza che ogni volta trova le sue strade per incrociarsi a quelle degli uomini. 94 anni, originaria di Castiglione delle Stiviere, infermiere in pensione, Emma Morosini in 25 anni di vita ha macinato quasi 40.000 chilometri a piedi. La sua storia ha una svolta nel 1992 quando viene colpita da una peritonite perforante. Prima di entrare in sala operatoria fa un voto alla Madonna. Se guarirò, dice, andrò in pellegrinaggio a Lourdes. La guarigione arrivò, ma a quel viaggio nel santuario dei Pirenei non restò un episodio isolato. Dopo il cammino a Lourdes arrivarono tutti i principali santuari del mondo. Se l'essenziale sta tutto nel suo carrellino, c'è un'altra forza che restituisce ad Emma una profonda energia. Non è mia forza e neanche mia volontà, perché è una forza che hai dentro e che man mano cammini aumenta, diventa sempre più impegnativo. Perché questo? Per rendere omaggio al creatore e alla creatura. Perché vivere da pellegrina nel mondo, nelle campagne e anche nei paesi, incontrare le persone è una cosa meravigliosa. Il vero motore che alimenta ogni passo è un profondo senso di gratitudine e un fiducioso abbandono alla provvidenza. Un cammino fisico che è metafora di un viaggio interiore. Mi ha dato la gioia di vivere, di conoscere più a fondo me stessa e di conoscere il prossimo, perché noi giudichiamo solo dall'esterno, mentre invece nel profondo di ogni cuore c'è sempre un margine di bontà. E questa sera, sempre in vista del Sinodo sui Giovani, si terrà a Genova un incontro con Don Michele Falabretti, incaricato del servizio di Pastorale Giovanile della CEI. Parteciperà alla consulta regionale di Pastorale Giovanile delle Diocesi Liguri. Don Falabretti si confronterà sulle sfide legate all'accompagnamento dei ragazzi alla fede. Il sacerdote presenterà anche le iniziative dei giovani italiani in cammino verso il Sinodo. L'incontro prenderà il via alle 19.15 all'Istituto dei Salesiani di Genova IV. Ora spazio all'economia nel focus di oggi, spazio alle caselle di posta elettronica certificata, PEC, alla rottamazione delle cartelle. Da oggi inoltre iniziamo a vedere cosa può essere detratto dalle spese sostenute durante l'anno. La scheda della settimana. La posta elettronica certificata PEC viene usata dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia per notificare atti importanti che in molti casi non vengono più spediti con raccomandata ordinaria. Pertanto è importantissimo che i contribuenti controllino ogni giorno la casella PEC per evitare spiacevoli sorprese e trovarsi nella situazione di non poter più impugnare atti illegittimi. Nelle prossime settimane l'ufficio riscossione dell'Agenzia delle Entrate invierà circa 60.000 lettere per offrire ai contribuenti la possibilità di rientrare nei vecchi piani di rateazione dopo aver aderito alla rottamazione senza però aver pagato la prima o unica rata in scadenza lo scorso 7 dicembre. Chi aveva un piano di rateazione in corso alla data di presentazione della domanda per aderire alla definizione agevolata potrà rientrare in quel meccanismo di pagamento scaglionato che però non prevede lo sconto su sanzioni e interessi previsto invece dalla rottamazione. Il vantaggio è la possibilità di diluire nel tempo il debito sino a un massimo di 72 o 120 rate. La lettera riporterà il debito residuo senza oneri aggiuntivi e le nuove scadenze di pagamento dilazionato. Per chi è decaduto dalla prima rottamazione è preclusa la definizione agevolata riproposta con la manovra di fine anno. Infine focus detrazioni. È stata introdotta una detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute anche nell'interesse di familiari a carico a favore di minori o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Le spese sono quelle sostenute a partire dal 2018 per l'acquisto di strumenti e sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento nonché di strumenti che favoriscano la comunicazione verbale e l'apprendimento delle lingue straniere. Un certificato medico dovrà attestare il collegamento tra i beni acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato. L'associazione Cicogna Sprint ha donato all'istituto pediatrico Gaslini di Genova una nuova incubatrice che si chiama Baby Leo dotata di sofisticate apparecchiature per accudire, proteggere e favorire la crescita dei neonati prematuri. È stato un momento speciale, infatti grazie al gruppo di edilizia acrobatica una squadra di volontari di supereroi si sono calati dal tetto del padiglione del Gaslini tra gli applausi di bambini, genitori e personale dell'istituto. All'inaugurazione hanno partecipato tra gli altri i donatori e le famiglie che hanno contribuito all'acquisto. Tra queste c'erano anche Teresa e Andrea Palanca, una famiglia di Sestri Levante che nei mesi scorsi aveva promosso un evento proprio finalizzato alla raccolta fondi. La donazione è in ricordo della piccola Anastasia Palanca e del piccolo Luigi Parodi. 13 chef di Genova e provincia insieme per solidarietà. I grandi cuochi danno appuntamento questa sera 8 febbraio al ristorante Dauvittorio di Recco. L'occasione è speciale, il ricavato infatti sarà devoluto all'Anfas Tiguglio Est di Chiavari per il progetto di trasferimento della struttura residenziale al secondo piano dell'ex convento dei Frati. Il via alle 20.30 con l'aperitivo, poi ci sarà il saluto della presidente dell'Anfas Egle Folgori e la cena che si preannuncia di raffinata gastronomia vista la partecipazione di cuochi di fama regionale. Per la serata si sono già prenotate 100 persone. Si può ancora aderire durante tutta la giornata di oggi o presentarsi direttamente questa sera al ristorante Dauvittorio di Recco. Stanno cominciando ad arrivare le prime fiabe inedite partecipanti al 51esimo premio letterario Andersen di Sestri Levante. La giuria tecnica esaminerà gli elaborati che dovranno pervenire entro il 23 marzo. Tante le novità per l'edizione di quest'anno del premio. Sentiamo. Entra nel vivo il premio letterario Hans Christian Andersen che per la sua 51esima edizione si propone in versione 2.0. In rete si possono trovare tutte le informazioni e le modalità di partecipazione al concorso con l'obiettivo di ampliare sempre più gli orizzonti. Abbiamo rinnovato completamente il sito internet. C'è la possibilità di inviare online le fiabe, di pagarle anche direttamente la quota di iscrizione per gli adulti tramite il sito internet con carta di credito. Mentre invece la parte più classica legata alle sezioni, legate alle scuole, è rimasta sempre a titolo gratuito e viene composta dalle scuole materne a salire fino alla secondaria di primo grado. Il fulcro rimane sempre la fiaba, rigorosamente inedita, mai veicolata su web o premiata già in altri concorsi. L'età dei partecipanti spazia dai tre anni in su, con una novità introdotta per l'edizione 2018, la graphic novel, ovvero la favola fumetti. Il premio Andersen, con i suoi quasi 51 anni di vita, si attesta tra i concorsi letterari più longevi a livello nazionale. E questo perché ci si è creduto. Ci ha creduto l'amministrazione e ci ha creduto la città, perché non è possibile diversamente. Ci hanno creduto le scuole, ci hanno creduto gli insegnanti, perché è soprattutto tramite gli insegnanti e tramite le scuole che questa cultura della fiaba, dello scrivere, dell'esprimersi attraverso la scrittura sono soprattutto gli insegnanti che sono i collaboratori, sono i principali veicoli di questa formazione culturale importante. Naturalmente, appendice del premio letterario, è il Festival Andersen che si appresta a vivere la 21esima edizione con un testimonial che avvicina le giovani generazioni. Il testimonial di questa edizione è che il cantautore Dario Brunori, quindi un cantautore che è abbastanza conosciuto alle fasce più giovani della popolazione. E poi ci sarà tutta una serie, appunto, con l'innovazione che dicevo prima, una serie di eventi comunque sempre grandi classici. Domani, 9 febbraio, nel complesso monumentale di Sant'Ignazio a Genova, ci sarà la cerimonia per ricordare gli italiani uccisi o costretti a fuggire dalla Dalmazia e dalla regione storica della Venezia Giulia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Interverrà Antonio Ballarin, presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli, Fiumani, Istriani e Dalmati. Seguirà la premiazione degli studenti che hanno vinto la 17esima edizione del concorso regionale dal titolo Il Sacrificio degli Italiani della Venezia Giulia e Dalmazia, mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli. È mancato l'affetto dei suoi cari Angelo Miro, conosciuto e stimato titolare della rivendita di materiali edili di Carasco, aveva 88 anni. Lascia la moglie Mirella, la figlia Emi, con il marito Daniele, cognati e nipoti. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15.30 nel santuario di Sant'Antonio, in via San Francesco a Chiavri, alla famiglia. Va il ricordo nella preghiera da parte di tutto lo staff di Telepace. Ora la linea alla rassegna stampa, ci ritroviamo poi con gli ultimi aggiornamenti. La grande coalizione punta a cambiare l'Unione Europea, così titola Avvenire. In Germania è Merkel IV allo SPD Esteri e Finanze. Per l'Italia crescita più forte, ma rimaniamo in coda in Europa. E il premier Gentiloni andiamo avanti con le riforme per risolvere i problemi sociali. A proposito di società, servizio civile obbligatorio, una spinta da Alpini e Fanti. Il PD dice che è nel nostro programma, Salvini ripropone invece la leva militare. Berlusconi condona, la Lega non lo perdona. Il Cavaliere propone una sanatoria edilizia. Nel Movimento 5 Stelle è il caso dei rimborsi a Strasburgo. Intanto Di Maio va alla sfida di Pomigliano. Se la vedrà con il candidato del centrodestra, Vittorio Sgarbi. Veniamo alla prima pagina del secolo XIX. Berlusconi e Salvini divisi dal condono. E poi ancora Minniti, il ministro degli interni, che dice che solo lo Stato può fare giustizia. Macerata applausi in carcere per l'attentatore Traini. I migranti più comuni ora li accolgono, ma nel 60% resta il no. Genova celebra la magia di Van Dyck, una mostra da domani con le meraviglie firmate da Anton Van Dyck. E poi Sanremo, boom di ascolti, ma c'è il caso Metamoro. Sospetto plagio, l'ira del duo sospeso è assurdo. E andiamo al nostro territorio. Uno stop di nove ore sull'Aurelia per i lavori alle Gallerie di Sant'Anna. E poi un parco unico tra Aveto e Portofino torna il progetto. E lo stop nel Tiguglio occidentale e i pullman turistici. Vediamo nelle pagine del Levante. Navette finanziate dalla sosta di bus. Ad ATP l'incasso del maxiparcheggio di San Pietro. Controlli a tappeto su chi utilizzerà altri caselli, cioè Chiavari e Recco in particolare. L'accordo è firmato da Rapallo, Santa Margherita e Portofino. Da marzo stop ai mezzi turistici superiori ai 12 metri. I comuni tenteranno di incentivare l'utilizzo anche dei battelli. Sempre dal secolo XIX, l'intervista all'attuale presidente della società economica di Chiavari. Largo ai giovani, mi ritiro in pensione. Napolitano tira le somme di 14 anni alla guida della società economica. Il sogno da difendere rimane la biblioteca all'aperto, osteggiata da un ricorso al Tar Ligure. Bruzzo, fedele braccio destro dal 2006, subentrato all'architetto del Monte, esperto di imprese e mondo agricolo. Ma adesso passiamo alla linea a Genova per conoscere gli argomenti del settimanale Il Cittadino in Edicola. Il Cittadino numero 5 di domenica 11 febbraio. In apertura, visita di ringraziamento a Papa Francesco. In un editoriale, a firma del direttore, tutte le informazioni per partecipare al pellegrinaggio diocesano a Roma in occasione della restituzione della visita al Santo Padre. Tutta la comunità è invitata a partecipare. È desiderio che siano in tanti i fedeli che si recheranno a Roma. In ultima pagina del Cittadino di questa settimana, il manifesto con tutte le modalità di partecipazione. In centropagina è la giornata del malato, che si celebra sabato 10 febbraio con la Santa Messa in San Lorenzo. E ancora, il richiamo ai 50 anni di Oftal, celebrati la scorsa settimana con una giornata di testimonianze e festeggiamenti nella Chiesa della Consolazione. Di spalla, il rimando al servizio interno sulla veglia per la vita, celebrata dall'arcivescovo a San Pietro di Quinto nei giorni scorsi. In taglio basso, Quaresima, tempo per la preghiera, il digiuno e l'elemosina. Una riflessione sul tempo speciale di fede che ci accingiamo a vivere. La Will Trasporti della Liguria manifesta preoccupazione sui risvolti occupazionali che avrebbe la scadenza della concessione per la gestione dell'autosilo di Portofino a carico della società Assobello, che è prevista per i prossimi 11 e 12 febbraio. Nonostante le ripetute sollecitazioni, non c'è chiarezza su come il Comune intenda gestire il servizio e soprattutto garantire il lavoro ai dipendenti addetti. L'operazione causerebbe la perdita di circa 35 posti auto di proprietà della società Assobello. Per questo motivo è stato proclamato uno sciopero di 48 ore nei giorni 10 e 11 febbraio prossimi. Ora la linea alla redazione dove c'è Andrea Capitani. A te Andrea. Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti. Si è tenuto ieri un incontro tra l'amministrazione comunale di Chiavari e le associazioni sportive cittadine. Il sindaco di Capua e l'assessore allo sport Ratti insieme al consigliere delegato Cesaretti si sono confrontati con i rappresentanti delle società sportive chiavaresi per un momento di ascolto e di confronto sulle problematiche legate allo sport. Vediamo proprio alcune foto. È stato fatto il punto anche sui prossimi interventi agli impianti sportivi cittadini. 500 mila euro saranno investiti per il ripristino dell'agibilità del campo sportivo di Colmata. E' stato approvato poi in via definitiva il progetto del centro polisportivo di San Pier di Canne. Mentre 41 mila euro saranno stanziati per il rifacimento proprio dell'impianto di riscaldamento del palazzetto dello sport. Saranno inoltre riqualificate le palestre di lotta e pesistica nel campo comunale di Via Gastaldi. E nell'ambito di recupero, del progetto di recupero di Piazza del Buono a Ribasso, sarà prevista la realizzazione di una pista di atletica. Queste appunto le rassicurazioni che sono state fatte dall'amministrazione alle diverse società sportive incontrate all'Auditorio San Francesco. Nella redazione è tutto, ti restrittisco la linea. Grazie Andrea. Concludiamo con lo sport e la palla nuoto. Nell'ottava giornata di Champions League, la Prorecco ha vinto contro lo Spandau Berlino nella piscina di Novara. Risultato finale 12 a 4. Presenti sugli spalti anche molti tifosi provenienti da Recco. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Ci ritroviamo questa sera alle 19.15. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.